La prossima settimana saremo in giallo? I dati sicuramente sì. Adesso sentirò io veramente in settimana il mezzo Speranza, ma i dati già dalla scorsa ci danno in giallo. Quindi ipotizzo che sia così dopo la scelta non è nostra, ma ipotizzo che sia così. Il presidente della regione Massimiliano Fedrigane è dunque sicuro. Numeri alla mano e verrebbe da dire in barba la tavolozza disegnata dall'Unione Europea. La prossima settimana la situazione emergenziale del Friuli Venezia Giulia a livello nazionale è destinata a migliorare. Ma lunedì prossimo, come è noto, gli studenti delle superiori torneranno in classe, ponendo fine ad un periodo caratterizzato da forti polemiche e nette prese di posizione. Saremo l'ultima regione a dare scuola in presenza insieme a qualche altro territorio, ma comunque gli ultimi. Questo però penso che abbia servito in un merito di mostrino. Il presidente della regione è fiducioso, anche perché soprattutto per quel che riguarda il trasporto pubblico, il Friuli Venezia Giulia ha messo in atto una serie di provvedimenti che dovrebbero garantire la sicurezza degli studenti e delle famiglie. Stiamo cercando di seguire ovviamente tutti i protocolli e questo è fondamentale e io sono convinto che il principio di precauzione che vedo stanno attuando molte scuole, ovvero quello di tenere il 50% alle 75% sia utile soprattutto in questo periodo. Nei giorni scorsi gli studenti di sette superiori cittadine hanno sottoscritto una lettera aperta in cui chiedevano di poter rientrare in sicurezza. Lettera che Fedriga molto apprezzato, così come l'atteggiamento complessivo di un gruppo di studenti, segliatamente del liceo Petrarca, che ieri ha incontrato. Sono molto più forti, si lamentano molto di meno e sono molto più responsabili di qualche adulto che ho incontrato. E questo devo ringraziare molti studenti anche per la lettera che mi hanno mandato ieri. Ho visto molto più responsabilità fra gli studenti che su qualcuno magari più in là con l'età. Grazie.